Essere atleti di alto livello al tempo dei social, un aspetto spesso poco analizzato ma del quale tenere conto in questi anni in cui i media digitali sono entrati potentemente in campo, spesso anche più degli atleti stessi. Offese, minacce, accuse, aspettative deluse, sono tutti temi sui quali si sono confrontati varie personalità dello sport, ospiti della Benetton Rugby, dei suoi atleti e dei suoi dirigenti. Quando investi tutto te stesso in un qualcosa che poi magari non ha risultato sperato e viene criticato, chi sei e quello che fai si sovrappongono molto. Penso che con lucidità prendere le distanze da determinate dinamiche sia l'unica maniera in cui si possa mantenere un equilibrio abbastanza stabile. Non vergognarsi soprattutto di chiedere aiuto se e quando necessario. È chiaro che ci possono essere dei momenti anche difficili in cui si è influenzati anche se non lo si vuole, per cui chiedere aiuto e comunque avere qualcuno con cui confrontarsi e magari avere un supporto è molto importante. L'allenatore ha detto che chiude spesso la lettura delle opinioni altrui per non essere influenzato in modo negativo. È una regola che mi sono dato per avere la lucidità comunque di affrontare le mie sfide con equilibrio. Magari esistono anche altri modi ma sono abbastanza integralista su questo, sì. Michele Lamaro, capitano dei Leoni, sottolinea come siano proprio le sconfitte ad accendere spesso le polemiche, ma la reazione è sempre un fatto personale e va separata dagli obiettivi. Quello che si può fare è sicuramente essere consapevoli che queste critiche prima o poi arriveranno e prepararsi in merito e il più possibile cercare di separarle da quelle che sono poi gli effettivi obiettivi di ciascuno. Nell'epoca dei social è fondamentale poi affidarsi a professionisti che questi strumenti li studiano e si preoccupano di capirne le criticità. Uno dei consigli che offre Marcella Bunus, psicologa dello sport, è quello di pensare bene a come e cosa si scrive. Lavorare bene sulla comunicazione e non veicolare informazioni di getto attraverso magari le emozioni, ma quando si pubblica sapere che quello che viene pubblicato inevitabilmente viene poi letto e interpretato da milioni di persone di cui noi non abbiamo assolutamente il controllo. Queste passate Olimpiadi hanno dimostrato che oggi una foto o uno sguardo fanno subito il giro del mondo e ricevono milioni di like o commenti, positivi o negativi che siano. Questo ha aperto a mio avviso un sistema, un modo di comunicare che continuerà a avere un futuro. Bisogna riuscire come tutti i cambiamenti a trovare la giusta distanza tra l'utilizzo e riuscire invece a staccarsi magari nei momenti importanti delle competizioni.